Musica Musica Allora, saluti già rivolti dal sindaco Paolo Lavagno a tutti i presenti desidero unire un sentito ringraziamento da parte del Comune di Ponzano che si sente particolarmente onorato della vostra presenza e delle vibranti parole pronunciate da chi mi ha presiduto. E tali ringraziamenti li devo estendere ai miei validi collaboratori quali sono stati gli storici di Michelicento e di Lario Mafredini che con armoniosa maestria hanno descritto storia, luogo, persone e culture di un piccolo borgo qual è il nostro paese immerso nel suggestivo paesaggio non ferrino che per le sue qualità artistiche e naturali costituisse davvero una elegante cornice. Nel ringraziare infine i rappresentanti della stampa che vorranno illustrare lo speciale avvenimento di oggi permettetemi di invitarvi ad un brindisi augurale e di stringervi cordialmente la mano. Grazie a tutti.